Le regole sono un abito, ma sono un abito che assomiglia ad una uniforme. Rompere la regola significa costruire un proprio abito che non sia un uniforme. Ci sono due figure che hanno rotto le regole in modo paradigmatico. La prima appartiene alla storia dell'arte, Pollock. Pollock rompe la regola del cavalletto, della tavolozza, della verticalità del quadro, stende la tela a terra, gira attorno. Un gesto straordinario. È l'origine della pittura contemporanea. L'altro personaggio è Freud, che rompe la regola della coscienza, la regola dell'io e che mostra che oltre queste regole c'è una forma di vita che è più forte dell'io e della coscienza.